Il caso Vassallo è più aperto che mai e sta ricevendo una svolta grazie al contributo della trasmissione di Italia 1, Le Iene. Ieri sera una nuova puntata dell'inchiesta portata avanti da Giulio Golia. Questa volta, grazie ad una richiesta di aiuto e un'informazione da parte di un cittadino che è rimasto anonimo, sono arrivate nuove informazioni e qualcosa si sta muovendo. In questo caso la pista da seguire sembrerebbe quella legata al ruolo del generale Pisani tra i fondatori del ROS e anche della sua famiglia. In particolare la figlia Ausonia Pisani a finire sotto i riflettori. Quest'ultima era stata già condannata per il duplice omicidio di Cecchina, maturato nell'ambiente del traffico di droga. La donna fu coinvolta assieme all'allora compagno, poi marito, Sante Fragalà. Quest'ultimo è stato anche ritenuto dagli inquirenti vicino alla cosca catanese dei Santa Paola. Ci sono collegamenti tra l'omicidio vassallo e quello compiuto dalla Pisani? Secondo l'inchiesta delle Iene potrebbero esserci. In particolare l'indizio rilevante è l'arma del delitto, una pistola calibro 9x20 che era in possesso della donna e che pare potrebbe essere lo stesso modello utilizzato dall'assassino la sera del 5 settembre 2010. Un no di troppo del sindaco pescatore alla famiglia Pisani avrebbe fatto scattare l'omicidio. Nell'ultima puntata la Iena Giulio Golia ha intervistato lo stesso generale Pisani e anche gli imprenditori che, stando alle ricostruzioni, avrebbero chiesto una concessione per aprire uno stabilimento balneare, proprio tramite il generale Pisani. L'attenzione poi si è rivolta sull'arma del delitto, due quelle dello stesso modello appartenenti ad Ausonia Pisani. Una delle due è stata oggetto di indagine, l'altra no. Che sia quella l'arma del delitto? Questo è l'interrogativo che Giulio Golia si è posto e che certamente sarà oggetto di approfondimento da parte della Procura.